diamo una controllata per vedere se le api hanno fatto celle reali e di conseguenza la nuova famiglia che avevamo visto vediamo cosa è successo si hanno fatto qualcosa oppure no controlliamo la quantità di api c'è come avevo previsto qui abbiamo addirittura le scorte guardate qua abbiamo le scorte delle larve fatte dai fuchi bisogna capire se è nata una regina oppure no ma non credo ancora quindi ancora mezza orfanella adesso andiamo a vedere l'altro telaio che secondo me è l'altro telaio avrà qualche cella reale spero lo vediamo subito allora un po di fumo questa è la nuova famiglia su due telai speriamo che sia andata come doveva andare allora vediamo un po non vedo vedo della vedo un inserimento di celle o eccola qua qua abbiamo una regina abbiamo una regina è nata una regina si sono fatti già la famiglia molto velocemente spero non sia la regina l'altra ok perfetto abbiamo una regina nuova di pacca avete visto faccio vedere di nuovo ho lasciato affare alla natura cos'è passato eccola qua la nuova regina guardate la vedete che gira adesso andiamo a vedere dall'altra parte nell'altra arnia com'è la situazione e via qua abbiamo una famiglia nuova senza neanche controllare le celle cosa cosa aveva fatto non fatto si sono fatti la loro vera famiglia questo caldo hanno fatto molto in fretta probabilmente e via ok adesso non mi ricordo quando l'ho messa però cosa avrà una settimana qualcosa di più di una settimana adesso andiamo a controllare dall'altra parte che non sia la regina dell'altra arnia anche quello da vedere ok come avete visto nell'altra arnia abbiamo avuto una regina che si è fatta a meno che non è la regina di quest'anni che adesso sto controllando qua vedo solo dei gran fuchi che adesso vado a vedere che magari non mi è scappata la regina dall'altra parte andiamo a controllare se c'è qua la regina pure no io vedo delle piccole celle vedo delle celle praticamente allora qui non vedo ancora nulla caccia alla regina vedo delle celle ecco la regina dall'altra parte di qua abbiamo abbiamo celle reali come se non ci fosse un domani ok quindi la regina è rimasta dell'altra arnia di là e le api non sono andate dall'altra parte quindi già questa è una gran bella cosa qui si sono messe a fare celle reali di brutto quindi vabbè non importa è la stessa cosa teniamo la regina di là ormai che di là quindi non ce la sono fatta se la sono fatta di qua qui abbiamo due milioni di celle reali controlliamo bene che comunque non ci sia la regina ed andiamo a togliere un bel po di celle reali perché qua adesso ce n'è bisogno facciamo così col petto andiamo a togliere a rimuovere tutte le celle reali che ci sono qua e teniamo ne teniamo una bella una di queste qua belle e così di modo che a breve scegliamo la migliore a breve nascerà poi una nuova regina queste qua gliele andiamo a togliere tutte le disfiamo facciamo così e gliele lasciamo sopra che se le si mangiano la pappa reale che hanno accumulato allora questo qui vabbè adesso lasciamolo qua da parte e andiamo a vedere gli altri telai come sono messi e andiamo a scendere la migliore cella allora qui abbiamo tre da una parte adesso la pinza non serve allora abbiamo tre da una parte e otto dall'altra abbiamo praticamente per la bellezza di una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici celle reali ragazzi solo di nulla quindi secondo me la migliore è questa qua che è la più grossa cominciamo andare a togliere queste via 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 tutte quella la mi sembra quella più grossa quella risporgente la ok abbiamo una cella bella grande qua la vedete che fatta e costruita su misura dell'arnia però io terrei toglieri una di queste due qua quindi questa qua la togliamo e teniamo questa qua in mezzo via perfetto ci siamo teniamo questa mi sembra bella queste qua nel lato via tutte ragazzi è pieno di pappa reale c'è un sacco di pappa reale io vi consiglio di andargli a togliere la di andarvola a prendere se vi interessa a me non mi interessa perché non ho tempo di mettermi lì quella pipetta a respirarla boh perfetto qui non ci sono più celle prese tutte devo stare attento a non toccare quella che ho fatto rimanere boh bene andiamo a rimettere il suo telaio bene senza facendo attenzione a non toccarlo facciamo così perfetto direi che ci siamo diciamo così scaliamo tutti i telai allora abbiamo fatto diciamo la regina dall'altra parte non hanno fatto celle perché me la sono portata di là tanto poco importa meno male che non sono andate tutte le api dall'altra parte ma a parte che non era un problema è andato tutto bene come doveva andare di là c'è la regina di qua se la sono fatta abbiamo scelto una cella buona rimettiamo tutta la sua baradama qua sopra e poi vedremo poi a breve di fare quando poi smellerò questo questo melario di andare a fare un trattamento antivarroa e anche se anche se non è diciamo non ho fatto non c'è questo blocco di covata e lo stesso lo farò ne farò poi un paio quindi va bene così per ora va bene così andiamo a rimettere il suo melario sopra c'è un po' di tiglio ancora boh ragazzi è tutto ci vediamo in un prossimo video e basta alla prossima grazie